Bruno Fittipaldo è il primo colpo della Sidiga Savellino per il mercato 2017. Il playmaker di Montevideo torna in Italia dove lo scorso anno ha iniziato la stagione con Capodorlando, risultando tra i big del campionato per punti assist e finendo immediatamente tra le mire dei top team europei. Da dicembre scorso l'esperienza al Galatasaray, giocando minuti importanti al primo anno nel vecchio continente, anche negli Euroleague. 15 punti e 7,5 assist di media nelle 12 gare giocate in Maglia Orlandina in Serie A, picchi europei da 21 punti contro lo Zalgiris Kaunas, al Abdi Pecci e da 17 a Milano contro l'Olympia al Forum. Un profilo di rinnovamento nel roster Sidigas, coach Stefano Sacripanti lo definisce come la persona giusta da cui far partire il nuovo ciclo, playmaker puro, gran passatore, con la capacità di valorizzare tutti i giocatori che sono in campo, un'investitura nel progetto futuro. A Caserta si attende la nuova definizione societaria con Patrono Iavazzi, che per il momento sta garantendo i passi utili verso la conferma dell'iscrizione in massima serie. In Serie A2 è ufficiale la separazione tra il cuore basket Napoli e Pino Corvo. Anni intensi di condivisione del lavoro, prima come Cilento Agropoli, poi come cuore Napoli, tra l'ormai ex direttore sportivo il presidente Ciro Ruggero, che tramite nota stampa hanno ufficializzato il divorzio dopo la promozione nel secondo campionato nazionale.